Buonasera ai telespettatori di Le Fonti TV e ben ritrovati con questo nuovo appuntamento di Book Crossing. Seguiamo il filo rosso tracciato la scorsa settimana con l'intervista a Marina Spadafora in merito al tema della moda sostenibile per continuare a parlare di sostenibilità ma a 360 gradi a partire proprio dal concetto di impresa come sistema vivente e lo facciamo attraverso l'autore del libro che ha proprio come titolo l'impresa come sistema vivente ovvero Massimo Mercati che è nostro ospite. Buonasera buonasera grazie dell'invito piacere essere con voi. Grazie a lei per aver accettato Massimo Mercati che è imprenditore autore editore amministratore delegato di Aboka la società di healthcare fondata nel 1978 proprio da suo padre Valentino Mercati. Ebbene lei è un po' il teorico proprio dell'impresa come sistema vivente ecco ci può aiutare nella definizione e come è nata questa idea? Beh diciamo che in realtà effettivamente questa idea nasce dalla volontà di decodificare un po' quello che in azienda ho sempre visto in tutti questi anni nella costruzione di questa organizzazione proprio nata e creata per studiare il rapporto tra uomo e natura e l'idea di cercare di decodificare appunto questo significato nasce da un'esigenza molto pratica in realtà che era quella di riuscire a condividere i concetti di fondo che sono alla base di ciò che permette di dare un significato all'organizzazione delle regole gestionali diciamo ispirate proprio all'intelligenza naturale che è l'oggetto della nostra attività con le persone che entrano all'interno della nostra organizzazione. Aboka negli ultimi anni come gruppo è cresciuta molto proprio in termini anche di risorse umane e pertanto per riuscire a mantenere quel DNA che costituisce la nostra essenza ho ritenuto fondamentale sviluppare un corso di formazione apposito che si chiama essere manager in Aboka all'interno del quale veicolare questi concetti che poi sono diventati oggetto di questo libro che abbiamo deciso di pubblicare proprio perché riteniamo oggi importante condividere una nuova possibilità una nuova visione di impresa che se vista come organizzazione sociale come comunità tra le comunità può diventare motore positivo del cambiamento e quindi dare una nuova prospettiva di senso e una nuova speranza anche di posizionamento vincente sul mercato ottenuto però non a partire dall'obiettivo del profitto ma da quello della creazione di valore. Lei ha già affrontato alcuni temi e ha adottato parole chiave che poi proprio saranno oggetto di questa di questa chiacchierata all'interno di Book Crossing prima stavamo vedendo anche proprio dal trailer del libro questo volo degli stormi che è proprio esemplificativo viene detto anche all'interno di uno dei capitoli del libro di come la natura ci insegni a gestire la complessità e a favorire invece la semplicità. Può dare qualche assaggio ai nostri telespettatori senza dire troppo perché poi le invitiamo alla lettura ovviamente? Sì senz'altro il volo degli stormi che abbiamo visto prima è una delle immagini più rappresentative di come si auto organizzino i sistemi viventi e del fatto che l'immensa complessità che è di fronte a noi che leggiamo nella natura in realtà nasce da poche semplici informazioni c'è quindi un legame molto stretto tra complessità e semplicità ad esempio nel volo dello stormo fondamentalmente nel caso che abbiamo visto si vede uno stormo fatto di migliaia di uccelli che per difendersi dall'attacco di un falco si muove in maniera coordinata il che è quasi incredibile perché sicuramente lì non si hanno dirigenti non si hanno gerarchie sono delle regole di base e queste regole sono semplicissime fondamentalmente i concetti sono tre cioè evitare la collisione mantenere una velocità costante e imitare l'altro queste semplici regole danno origine a queste forme uniche e complesse qual è il significato però più profondo che queste regole semplici in realtà ci dicono che in un'organizzazione a rete come quella degli uccelli così come in un'organizzazione a rete quale quella dell'impresa le parti contano solo in quanto in relazione al tutto se ci riflettete nel caso del volo degli stormi ad esempio l'uccello che è più veloce o quello che è più lento finirà comunque ucciso dal falco non so se riesco a spiegarmi cioè attenersi a quelle regole è l'unica condizione che consente l'armonia tra le parti e il tutto e il punto fondamentale da spiegare però è che questa semplicità è tutto meno che facile proprio perché il riuscire a coordinarsi con il sistema a rete implica uno sforzo notevole e io cerco sempre di esprimerlo attraverso un'altra citazione che si riferisce a un libro molto interessante di john meda che le dieci leggi della semplicità e tra tutte queste leggi ce n'è una particolarmente interessante che è l'ultima la quale dice che la semplicità è sottrarre l'ovvio e aggiungere il significativo ecco secondo me questa frase è fondamentale per noi in azienda sta diventando un must di riferimento perché se veramente noi fossimo capaci in ogni nostra azione di sottrarre l'ovvio aggiungere il significativo beh è chiaro che saremo capaci di creare valore in una logica di coordinamento fra tutte le aree aziendali è un tema cruciale in questo modo mi dà l'opportunità per citare altri due elementi il tema della gestione delle reti altro termine chiave che ricorre appunto all'interno del libro e la gestione delle persone che è altrettanto chiave beh sì ancora una volta noi nel libro cerco di fare un parallelo fra le regole le leggi che vediamo applicate in natura e quelle che invece noi applichiamo all'interno dell'impresa e ad esempio il tema di gestire delle reti deve essere affrontato proprio sulla base dei concetti di fondo che sono alla base dell'organizzazione delle reti e nel caso in cui ci approcciamo alle persone chiaramente la complessità aumenta ma è proprio questo il punto da cui si deve partire cioè se noi siamo di fronte a un sistema complesso non possiamo agire secondo regole lineari non possiamo più far conto ad esempio nell'ambito della gestione delle persone sulla logica lineare causa effetto che è però quella che normalmente adottiamo cioè noi diciamo da responsabili o do un comando al mio sottoposto e questo dovrebbe obbedire beh se studiamo la natura vediamo che questo non esiste perché qualsiasi essere vivente risponde agli stimoli dell'ambiente in maniera autonomo auto organizzandosi questo dal più semplice organismo unicellulare fino all'uomo alla persona è la teoria che friggio capra definisce del disturbo significativo cioè lui dice di fronte un sistema vivente io non lo potrò mai comandare mai realmente costringere a fare qualcosa perché a fronte di quello che io dico al massimo lo potrò disturbare e questo disturbo dovrà essere prima di tutto significativo cioè arrivare alla persona così come a livello biologico permeare la membrana della cellula ma in ogni caso lui risponderà in modo autonomo quindi io non potrò mai sapere qual è la sua risposta al mio input io in azienda questo lo decodifico sostenendo che noi dobbiamo sapere che come abbiamo un input a un nostro collaboratore per presupposto dobbiamo pensare che lui ha compreso qualcosa di diverso e la logica si sposta perché a questo punto non potendo più contare sulla causa effetto il principio di casualità diventerà condizione conseguenza cioè il manager sarà il costruttore di un contesto che poi dovrà monitorare il processo tornandovi costantemente e orientandolo verso la finalità che si è proposta sapendo a priori che questa è la regola base per la gestione del sistema vivente la gestione del sistema vivente ha citato anche il ruolo del manager a questo punto è interessante citare tutto il tema della leadership che lei affronta all'interno del libro e che è strettamente collegato anche al tema della responsabilità lei cita anche un testo di frederick gross disobbedire come uniamo queste tre parole leadership responsabilità e disobbedienza il primo primo punto quando parliamo di leadership e ci riferiamo all'esempio che ho appena fatto parliamo delle condizioni di efficacia del comando e poi qui il punto è come possiamo essere più efficaci nell'otti e in quest'ottica la logica processuale la logica contestuale è a mio avviso in un sistema rete l'unica che può funzionare ma subito dopo l'altra domanda è sulle condizioni di legittimità perché qualcuno comanda e qualcuno obbedisce è molto interessante questo io invito tutti i responsabili delle imprese a chiedere ai propri dirigenti perché sei tu a comandare vedrete che dalle loro risposte otterrete delle informazioni molto interessanti perché che faremo è da fare perché molto spesso la risposta è beh io comando perché sono il più bravo fondamentalmente è un punto di vista che può essere legittimo ma in realtà proprio studiando il libro che lei ha citato tra l'altro paradossale ma nei corsi di formazione aziendali parlando di delega e di obbedienza ho invitato i nostri manager a leggere il libro che parte proprio dicendo disobbedire qual è il concetto è quello di provare a capire se si può costruire una leadership che abbia un riconoscimento e questo riconoscimento che poi porta a quella che potremmo definire un'obbedienza responsabile non può basarsi unicamente sulla logica per cui io riconosco che quella persona è più brava di me questa è una dimensione individuale sicuramente importante ma non sufficiente e proprio grosso ci aiuta perché come ulteriore elemento dice fondamentale anche la virtù cioè il fatto che tu metta in atto quello che dici perché solo così puoi ottenere un riconoscimento della tua autorevolezza piuttosto che della tua della tua autorità ma ancora con competenza e virtù siamo in una logica diciamo personale cioè si riconosce quel leader piuttosto che la leadership come invece io credo vada intesa la quale si esprime solo nel momento in cui si aggiunge un'ulteriore caratteristica che quella che gross definisce la sollecitudine cioè la capacità di prendersi cura degli altri se vogliamo in parole più semplici ed è coerente con quanto dicevo prima il fatto di preoccuparsi di fare in modo che gli altri possano obbedire quindi costruire le condizioni dalle definizione del ruolo corretto la al fornire gli strumenti alle altre persone preoccupandosi di loro e questo conduce alla fine ad un ribaltamento di prospettiva che poi è espresso già da sant'agostino nella città di dio in cui lui dice che nella casa di un giusto anche coloro che comandano in realtà obbediscono perché qual è il punto fondamentale che in un'impresa vista come istituzione il leader è prima di tutto il custode della vision dell'impresa del suo significato ed ha la responsabilità di mantenere far progredire questo significato all'interno dell'organizzazione e lui stesso obbedisce a tale significato anzi è colui che ne porta la principale responsabilità e spero di essere riuscito a farmi comprendere perché un punto fondamentale di ribaltamento che troppo spesso non viene compreso e che pone anche la sua radice nella capacità di leggere l'impresa come un'istituzione che deve essere rispettata prima di tutto da chi ne è il principale responsabile e infatti qui si collega proprio a una concezione di impresa come creatrice non solo di profitto ma di valore che è un discrimine che lei affronta all'interno del libro tant'è che a un certo punto proprio nella sezione dedicata alla creazione di valore lei dice perché nasce un'impresa la risposta più immediata è semplice per generare profitto e sembra che questo lo dica anche il codice civile ma forse dovremmo fare uno step in più anche sul concetto di crescita ma la crescita è solo legata alla crescita degli utili è tutto un tema che va messo a sistema purtroppo il tempo si sta cominciando ad assottigliare per cui a proposito della creazione di valore volevo collegarmi anche ad un'altra domanda che vorrei farle è collegata anche al tema del profitto com'è possibile per un'impresa coniugare il profitto al bene comune che è un termine che lei ha utilizzato anche. Guardi io provo a risponderla a entrambe le riflessioni che lei ha fatto perché sono strettamente connesse cioè il nostro problema è che noi intendiamo la crescita in una logica monodimensionale che è quella della transazione monetaria per cui per noi il valore non corrisponde altro che ad una crescita lineare di misure quantitative detto così evidentemente per un'impresa non vi altro che la crescita dei profitti e dei utili che è poi anche quanto scritto nel nostro codice civile ma in realtà se noi guardiamo anche il sistema vivente di per sé questo tipo di crescita non rende conto del reale valore e disvalore creato perché il valore e il disvalore hanno una dimensione multifattoriale che non può essere limitata alla transazione monetaria e da un altro punto di vista l'idea che ci sia una crescita lineare continuativa in un sistema finito come è il nostro è di per sé stessa illogica e infatti lo vediamo oggi dove nonostante le gravi crisi ambientali sociali da noi stessi causate l'economia non torna più a crescere ma questo è perché noi sbagliamo il concetto di crescita la crescita in natura è un equilibrio alcune parti crescono altre decrescono e questo presuppone che vi sia la necessità di interrogarsi sulle reali determinanti del valore e oggi assistiamo a uno shift molto forte anche nella domanda dove le persone non hanno più interesse ad accumulare più beni ma cercano qualità piuttosto che quantità e in questa ricerca della qualità si inverte la logica classica cioè non è più il profitto a creare valore ma la creazione di valore a creare il profitto perché il successo delle nostre imprese nel futuro sarà dato dalla nostra capacità di generare fiducia nei nostri utenti di generare relazioni durevoli nel tempo di mantenere le proprie promesse e di creare realmente valore so che ad esempio la settimana passata avete parlato di moda sostenibile per fare un esempio di aziende di successo in quest'ambito pensate alla campagna di Patagonia forse ne avrete avuto modo di approfondirla quando Patagonia dice don't buy my jacket che il concetto non ne possiamo più della parola consumatori cioè noi per essere funzionali al sistema dobbiamo distruggere il più velocemente possibile delle risorse non lo accettiamo più perché è evidente a tutti che sia insostenibile e aziende come Patagonia che l'hanno compreso dicendo don't buy my jacket perché te lo riparo perché è un bene durevole da mantenere nel tempo hanno più successo delle altre infatti è proprio uno dei temi che avevamo affrontato su questa sorta di vademecum, di decalogo della moda sostenibile c'è proprio quello di puntare sulla qualità dei prodotti lo si stava già dicendo e poi sul loro riutilizzo magari il passaggio anche tra generazioni o il fatto di metterlo di rammendarlo o comunque di riutilizzarlo quindi direi che siamo perfettamente allineati anche il concetto è proprio questo, solo la capacità di prendersi cura del bene comune c'è un legame indissolubile fra bene individuale e bene comune penso che ai tempi del covid sia abbastanza evidente infatti è quello che insomma anche il rapporto con la natura è stato oggetto di discussione pensiamo appunto a come un libro come quello scritto da David Quaman Spillover scritto diversi anni fa poi sia ritornato ad essere un best seller perché va comunque a scandagliare il nostro rapporto malsano con il sistema naturale quindi ci sono tanti elementi prima di parlare proprio dell'emergenza a conclusione volevo chiederle rispetto ad una definizione che lei fa all'interno del libro della vision e lo differenzia però rispetto al concetto di mission può darci qualche indicazione su questa differenza? di nuovo qualcuno ha giudicato le mie opinioni in questo libro eretiche nel senso che tendenzialmente vanno proprio a invertire la prospettiva perché è questo quello che io credo sia oggi necessario così nel caso delle aziende si parla di vision e mission normalmente la vision è l'anelito cioè il sogno, ciò che non si realizzerà mai mentre la mission è lo scopo concreto, l'obiettivo da raggiungere in realtà io penso che anche da questo punto di vista la situazione sia invertita cioè la vision se correttamente intesa come la ragione del perché siamo quello che siamo è l'unica cosa della quale noi possiamo essere responsabili ogni giorno perché poi l'obiettivo concreto possiamo raggiungerlo meno io questo nel libro lo spiego anche attraverso la filosofia stoica i concetti di telos e scopos ma molto più praticamente non so nel caso di Aboka un esempio veloce e concreto noi nella nostra ragion d'essere trovare nella natura soluzioni per la salute dell'uomo che rispettino il nostro organismo e l'ambiente dall'altra abbiamo come tutti dei budget non so quest'anno dove è stato più difficile raggiungere probabilmente non verranno raggiunti è esploso il mercato delle vitamine ora le vitamine anche se pochi lo sanno sono in realtà prodotti di sintesi chimica quindi noi avremmo anche potuto lanciare sul mercato per sfruttare l'onda questo tipo di prodotti nessuno se ne sarebbe accorto ma avremmo tradito la nostra ragion d'essere quindi il punto che invece deve rimanere fermo è il significato e il perché lavoriamo e perché facciamo quello che facciamo e questa è anche la condizione di base che poi spinge all'innovazione ti spinge ad andare oltre e quindi io credo che si debba ripensare anche da questo punto di vista il modo di vedere queste due parole chiave per ogni impresa assolutamente infatti stavo recuperando proprio rispetto anche a alcune sue definizioni dei driver del valore che con un concetto di crescita che sia al contempo economicamente valido ecologicamente sostenibile e socialmente equo quindi anche questi tre elementi che vadano insomma all'unisono per concludere ci troviamo ad affrontare l'ha già citato anche lei un periodo particolarmente complesso in cui anche il mondo delle imprese non solo il mondo si sta interrogando su forse quale può essere la sua vision e la sua mission come il concetto di impresa come sistema vivente si può applicare a maggior ragione in questa fase? Io credo che oggi la situazione che stiamo vivendo rende evidente i due pilastri diciamo del pensiero che io cerco di esprimere cioè uno l'interconnessione tra tutte le forme del vivente per cui ogni nostra azione ha riflessi sul sistema vivente del quale facciamo parte e per questo noi come uomini non possiamo considerarci dominatori della natura perché ne siamo parte e la tecnologia e questo è credo il vero punto di riflessione oggi ci permette l'evoluzione scientifica di comprendere i sistemi naturali e la tecnologia di adattarci ad essi non di fare l'opposto noi viviamo in un'epoca si potrebbe definire di naturalismo economico cioè diamo per immutabile il nostro sistema che invece è creato da noi tra l'altro in poche centinaia di anni e cerchiamo di cambiare la natura in realtà dovremmo usare la nostra intelligenza le nostre conoscenze per adattarci a una natura che per definizione non possiamo controllare e questo è il primo punto il secondo è che nel momento in cui è chiaro che il mio bene dipende dal suo e da quello degli altri e oggi essendo tutti chiusi in casa non possiamo più incontrarci credo che sia palese è altrettanto chiaro come questa lezione ci dica che nonostante il sistema sembri andare in una modalità diversa che l'individuo da solo non può far nulla che il bene individuale è indissolubilmente legato al bene comune e questo dovrebbe indurci a ripensare profondamente prima di tutto le nostre imprese nella logica ad esempio oggi della normativa sulle società benefit cioè poi questi concetti possono essere e sono declinati in termini molto pratici per andare a recuperare quello che è la nozione chiave di un'impresa che svolge una funzione economico-sociale o altrimenti impresa non è e così facendo trovare nell'impresa un motore diciamo all'interno del quale si può realizzare allo stesso tempo i nostri obiettivi e quelli della collettività che poi significa d'altra parte anche ridare una forte dignità al lavoro che non è più solo il fare per raggiungere uno stipendio ma il fare per costruire ogni giorno qualcosa di bello e di buono questo è un proposito che ci auspichiamo che anche molti altri imprenditori possano fare proprio e anche molti dipendenti io ringrazio tantissimo Massimo Mercati per essere stato qui con noi per averci dato anche queste immagini di speranza attraverso le sue parole di una costruzione di un mondo che possa avere dei parametri dei principi che vedano uomo natura e comunità economia viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda e invito alla lettura appunto dell'impresa come sistema vivente di Massimo Mercati edito da Aboka e anche degli altri insomma testi che Aboka sta sfornando passatemi questa immagine con dei bellissimi testi appunto e autori anche di romanzi saggistica che si ispirano anche loro alla natura speriamo di poter avere anche loro magari a raccontarci qualche altro aspetto grazie grazie a lei grazie veramente io ringrazio anche i nostri telespettatori per averci seguito non mi resta che lasciarvi al resto della programmazione di Le Fonti TV prossimo appuntamento come di consueto alle 17.30 di venerdì con Book Crossing buona serata grazie a tutti grazie a tutti